Ciao amici, oggi vediamo insieme due cibi potenti che ci aiutano a dimagrire. La loro combinazione può far perdere fino a 2 chili in 7 giorni. Ma va? Sì, ci sono studi scientifici. I superfood di oggi sono finocchi e tè verde. Ecco alcuni consigli su come combinarli per seguire un'alimentazione detox e dimagrante. Come sempre ognuno si regoli per le quantità. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace e tanti nuovi video. Benefici del finocchio. Il finocchio è un ottimo alimento ricco di fibre, minerali, vitamine, a potere detox e diuretico, antigonfiore e digestivo. Fa dimagrire perché stimola l'eliminazione dei liquidi in eccesso e delle tossine. Benefici del tè verde. C'è una miriade di studi sui benefici del tè verde. I suoi benefici sono dati dalle catechine dei polifenoli antiossidanti che contrastano radicali liberi, invecchiamento della pelle, malattie cardiache, aiutano a prevenire il cancro e altre malattie infiammatorie. Il tè verde fa dimagrire perché sostiene il metabolismo ed è pura il corpo. Ne ho parlato più in dettaglio in questo video. Vediamo adesso un menù giornaliero con questi due alimenti speciali. Colazione. Una tazza di tè verde accompagnata da un budino di chia al cioccolato con l'aggiunta di frutta fresca in pezzi come fragole o ciliegie. La ricetta del budino di chia la trovate in questo video. I semi di chia stimolano il metabolismo e il transito intestinale. Fragole e ciliegie sono ricche di licopene e un forte antiossidante. Spuntino. Se la colazione per voi è leggera ma non volete appesantirvi a metà mattina si può fare uno spuntino crudista con finocchio e carote crude accompagnato da una tazza di tè verde ovviamente. Pranzo. Per pranzo va bene un primo leggero come riso o cereali accompagnato da verdure crude come pomodori, sedano, finocchi magari in una insalatona. Merenda. Il trucco è fare uno o due spuntini spezza fame così non viene in classico buco nel pomeriggio e non si cercano schifezze consolatorie. Io ci casco sempre e poi è una scusa per fare ancora il pieno di cibo sano. Anche la merenda è crudista a base di frutta o verdura e un buon tè verde. Come frutta si può mangiare kiwi, ananas, anguria, melone. Anguria e melone vanno mangiati da soli senza altri alimenti mi raccomando. Come verdura si può fare uno snack a base di finocchio e carote anche insieme. Cena. Facciamo una cenetta detox e light con proteine magre e verdure, insalata di finocchi e arance o insalatina mista per cominciare, seguita da un secondo con proteine magre come tofu, seitan, burger veg, oppure pollo, tacchino, pesce, uova per chi è onnivero, con verdure cotte come spinaci, finocchi, zucchine, erbe amare tipo cicoria. Tutti cibi detox e dimagranti. Per chiudere la cena si può bere un tè verde dolcificato con miele, stevia o zucchero di canna integrale. Per la merenda e la cena meglio una varietà di tè verde senza caffeina, altrimenti poi la notte non si dorme. Con questo stile alimentare i risultati si vedono già in sette giorni in base alla situazione personale di partenza di ciascuno. Per vedere tanti altri video come questo iscrivetevi al canale, è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!